ciao bianconeri bernardeschi migliore in campo lo ripeto bernardeschi migliore in campo non avrei mai pensato di fare un titolo di un mio video così e non avrei mai pensato di dire una cosa del genere cioè che nella juve del 2021 bernardeschi è un titolare e guai se mancasse ancora una volta un assist uno un ennesimo credo sia il quinto sesto ho perso il conto un assist per moise ken che era lì era lì questo è l'unica cosa positiva del gol di moise ken era lì in mezzo all'area la presa di testa ma in realtà bernardeschi voleva tirare c'è stata una deviazione moise ken la presa di testa è andata in rete 1 a 0 ma poi la cosa fondamentale che bernardeschi ha giocato da migliore in campo ha creato gioco si è dato da fare tantissimo e ha segnato il gol del 2 a 0 un bellissimo gol dopo un anno e passa che non segnava quindi si è sbloccato il berna ragazzi permettetemi un saluto verso i ragazzi di juve mi raffaello corvo gaitanos e tutti gli amici che mi hanno regalato la maglietta ma non perché mi hanno regalato la maglietta perché sono una bella community ragazzi bernardeschi migliore in campo in una partita che ci ha detto cosa ci ha detto che la juve è questa la juve è molto limitata la juve è la stessa che ha giocato contro il bologna una juve che segna e che rischia di pareggiare o meglio di subire il pareggio col cagliari in casa ci sono state dieci minuti in cui veramente stavo non dico imprecando ma ci siamo chiusi troppo abbiamo subito dei tiri nel secondo tempo sto parlando dei tiri assurdi cesni è stato fantastico a salvare il risultato una juve che non ha assolutamente dominato il gioco non ha tirato in porta 40 volte non ha dato l'impressione di essere devastante mai stato quest'anno per quello mi viene in mente il bologna perché abbiamo giocato nella stessa identica maniera portiamo a casa un risultato ancora una volta due a zero fondamentale ragazzi l'atalanta è andata a pareggiare a genoa col genoa scusate zero a zero e quindi la juve recupera due punticini ancora sulla talanta dai dai ragazzi non molliamo non molliamo è un anno strano un anno brutto un anno pieno di pensieri non solo legati al calcio cerchiamo di guardare ogni tanto anche il lato positivo cerchiamo di godere di queste piccole gioie piccole così della vita una partita di calcio vinta due a zero dai puntiamo la rincorsa puntiamo la rimonta puntiamo il quarto posto questo è quello che dobbiamo avere in testa senza continuare a fare processi su processi ormai quello che alla juve non ha funzionato quest'anno l'abbiamo già sviscerato in tanti modi tutti quanti ed è inutile costantemente quotidianamente ripetercelo c'è qualcosa che non ha funzionato c'è qualcosa che continua a non funzionare e probabilmente qualcosa non funzionerà quindi visto che è una stagione così non ci rimane altro che godere di queste piccole gioie di queste piccole vittorie giocate anche male con una juve imperfetta totalmente imperfetta ma che ci fanno un po' respirare la juve gioca ancora con lo consueto modulo questo era un 4 3 3 ancora una volta con cesni inamovibile cioè cesni non lo tira via manco col cagliari in casa quindi insomma poi al di là delle due tre partite iniziali del campionato cesni si sta dimostrando un portiere molto affidabile in difesa adesso vi faccio un po' ridere allora in difesa partiamo dalla destra per favore partiamo dalla destra qua in quadrado allora quadrado secondo me non doveva nemmeno giocare perché era diffidato una munizione gli avrebbe causato una un'esclusione clamorosa dalla partita che abbiamo il 6 gennaio il mio compleanno ragazzi ricordatevi il 6 gennaio il mio compleanno è contro il napoli però ha giocato lo stesso infatti l'ho visto giocare un po' in punta di piedi in difesa è vero che non è stato molto impegnato però non ha neanche spinto tanto in avanti quadrado vabbè ha fatto il suo niente di eccezionale bonucci e delict anche loro il suo il loro il loro lavoro l'hanno fatto egregiamente come sempre pulitissimi hanno chiuso tutto non è passato quasi quasi niente quasi niente e va bene così terzino sinistro avendo pellegrini che si era infortunato nella scorsa partita e quindi non era al cento per avendo un decidio che ancora non è in formissima clamorosa abbiamo visto in campo quello che ormai sapete essere il mio idolo indiscusso cioè voi dovete immaginare che io in questa camera dove ho le chitarre appese questa è la stanza della musica tra le altre cose a casa mia ho appeso i poster dei miei miti cioè john lennon freddy mercury card cobain tuomas holopainen che nessuno di voi conoscerà ma è un grandissimo artista fondatore dei night wish tastierista dei night wish e poi ovviamente ho alexandro nudo con il salvagente rosso di baywatch pieno d'olio no non è vero ovviamente non è vero era una battutaccia per dire che alexandro questa sera ha fatto cagare ha fatto molto tanto ok è un giocatore inutile è un giocatore che sbaglia qualsiasi cosa è un giocatore che non va più in avanti va solo all'indietro e la passa sempre all'indietro e cinque volte su dieci il pallone lo perde è un giocatore totalmente inutile e io ormai veramente sembra di sparare sulla croce rossa ma mi meraviglio di come in tutti questi anni alla juventus non abbiano mai voluto mettere in discussione alexandro mai dai tempi di danni alves questo cristiano di alexandro cristiano nel senso di essere umano non ha mai avuto un veramente un concorrente tale da da togliergli il posto da titolare magari quest'estate l'estate prossima sarà la volta buona ragazzi comunque veramente alexandro il peggiore di tutto di tutto il campo di tutto lo stadio di tutta torino di tutto il piemonte proprio pessimo a centrocampo abbiamo giocato con artur come play regista che secondo me ha fatto una buona partita è stato in campo tantissimo tempo quasi la totalità poi verso la fine a cinque sette minuti dalla fine allegri lo ha cambiato con locatelli artura ha fatto una bella partita a destra bentancur secondo me è stato pulito è stato buono nella nel mantenimento dell'ordine di centrocampo come al solito lui è tanto altruista quando va in avanti magari all'occasione di tirare la bomba da fuori non lo fa mai ha passato due o tre volte e poi il pallone si è perso non per colpa sua questa volta di solito sì ma questa volta perché o quadrado o morata non hanno poi avuto l'occasione il modo poi di tirare in porta dall'altra parte abbiamo l'altro zombie della juventus cioè adrian rabiot non a caso sostituito alla fine del primo tempo rabiot giocatore anche lui pressoché inutile allegri dice che ha tante aspettative su di lui io non lo so se è vero ragazzi o se è una strategia di mercato perché dobbiamo venderlo questo non ve lo so dire però rabiot è veramente un giocatore che non ha senso non ha senso in nessun modo e soprattutto alla juventus sostituito da un mccanny che è stato eccezionale cioè insieme a bernardeschi cioè sotto bernardeschi mccanny è stato il migliore in campo mccanny fantastico posseduto era una una tarantola fisicamente forte veramente bravo bravo in questo momento mccanny lì vale cento volte adrian rabiot e poi davanti tre avevamo i tre che erano ancora una volta bernardeschi morata e ken dove morata e ken si sono a certo punto alternati e morata è andato a fare l'esterno sinistro cioè diciamo esterno attaccante sinistro e ken più centro avanti cosa c'è da dire bernardeschi ve l'ho detto è stato il migliore in campo è stato fondamentale non solo per l'assist l'ennesimo il gol dopo tantissimo tempo sono contento per lui veramente un anno fantastico per bernardeschi che dall'europeo in poi è stata tutto un escalation di motivazione di tutto quanto parliamo degli altri due io vi dico e qui concludo il mio video perché c'è poco altro da dire in questa ultima partita della juve del 2021 io penso che la juve e noi tifosi bianconeri ci meritiamo di più e meglio di morata e ken lo ripeto noi tutti ci meritiamo di meglio di morata e ken io tra tutte e due non ne faccio uno nessuno dei due mi piace nessuno dei due secondo me in questo momento è all'altezza da un punto di vista di mentalità di fisico di tecnica e di capacità per dare un valore aggiunto la juventus sembra quasi che sia la juventus a fare un favore a loro farli giocare ma non deve essere così morata si impegna sì però ragazzi siamo la juventus non è la squadra del del mio paese o dell'oratorio o non si gioca tra colleghi dove inviti il collega forte così ti fa vincere contro gli altri qui siamo alla juventus morata non me ne frega niente di tutto st'impegno che tiene il pallone una volta si gira bene e ci mancherebbe altro che una volta in 90 minuti non fa un bel un bel dribbling o che cavolo cioè a quei livelli ti aspetti molto di più in tutti i sensi ma continua continua non soddisfarmi in nulla moise ken uguale moise ken è un giocatore completamente diverso da alvaro morata è vero che ha segnato ma non ha neanche fatto apposta o quasi diciamo stasera ma ha sbagliato tutto il resto ha sbagliato gli stop gli appoggi tutto invece invece ragazzi uno che è entrato molto bene al di là di mckennie di cui gli ho già parlato uno che è entrato molto molto bene è stato kuluseski kuluseski ha fatto due cose spettacolari tra cui poi l'assist come si è girato si è liberato corsa assist passaggio filtrante verso bernardeschi che ha segnato il 2 a 0 kuluseski è entrato bene desciglio non si è praticamente visto che è entrato negli ultimi minuti non si è visto neanche caio giorgi e questi sono stati i cambi di massimiliano allegri avete notato che la nostra dirigenza io avevo un amico lì in tribuna che mi mandava le foto ravvicinate mentre mentre guardavo la partita vi posso dire che allegri scusate agnelli arriva bene e nedved a un certo punto si sono assentati e è previsto per questo dopo juve cagliari questo post scusate juve cagliari di un incontro con allegri per cominciare a mettere in piedi la strategia per il mercato di gennaio alcuni dicono che non si farà niente alcuni sognatori sognano i colponi secondo me né uno né l'altro secondo me la juve riuscirà a fare qualcosa non saranno colpi incredibili ma non sarà neanche lo zero assoluto ma ne parleremo questa è stata l'ultima partita del 2021 e io vi ringrazio poi avremo modo ovviamente nei prossimi dieci giorni che che ci rimangono da qua a fine anno di rivederci assolutamente sì di salutarci di farci gli auguri anche con una diretta e tutto quanto però è stato un anno fantastico nonostante non abbiamo vissuto né compirlo ne con allegri dei momenti straordinari un dominio nel calcio mondiale della nostra juventus però è stato bello commentare le partite con voi avere a che fare con voi nelle mie dirette nei miei video di approfondimento eccetera eccetera è sempre divertente sempre stimolante anche la mia famosa chat di telegram dove ci sono delle discussioni spettacolari ogni tanto ci sono due o tre personcine che si batti beccano su su un certo giocatore però è l'animo del tifoso è il cuore che viene fuori no ed è bello anche così ragazzi forza juve forza juve ci aspetta un gennaio devastante partite fondamentali che saranno la svolta della stagione vediamo come si presenterà la nostra juve intanto saluto gli amici interisti che hanno la guardia di finanza in casa ragazzi ragazzi avete visto parlare sempre male degli altri il male poi vi torna di torna contro vi torna vi torna tutto addosso mai parlare male degli juventini ragazzi vi torna tutto addosso e parleremo forza juve grazie a tutti grazie a tutti